Qualcuno l'ha definito il momento più difficile nella storia del Little Volley. Prima la World League e l'esclusione per motivi disciplinari di quattro giocatori, quindi le dimissioni del CT Berruto. Il tutto alla vigilia di un appuntamento in mondiali decisivo in ottica a qualificazioni olimpiche. E si riparte da Cavalese allora. Da questo ritiro si cerca di ripartire da zero e rinsaldare il gruppo, sotto la guida di Chico Blengini, il nuovo CT. Il momento più difficile? Non lo so se è il momento più difficile. È un momento e in quanto tale cercheremo di viverlo dando priorità a quelle che sono le cose a cui un allenatore secondo me deve dare priorità, ovvero come questa squadra allenerà, come questa squadra si preparerà, come questa squadra soprattutto giocherà. Lo strappo di Rio ha portato all'esclusione di Dragan Traviz. Questo significa anche che le chiavi del gioco saranno ora affidate a Simone Giannelli, l'eroe della finale scudetto per la Trentino Volley. Sessione è stupenda, a parte che il titolare non si sa ancora, io adesso cercherò di impegnarmi in fondo, cercherò di dare tutto a me stesso in questi giorni, lavorerò al massimo. E fra tante novità anche Osmani Guantorena, quest'anno in forza macerata, ma eroe di tanti successi per Trento. Per lui il tanto agognato esodio in nazionale. Sessione bellissima, quindi sono arrivato ieri a questa nazionale, lo sapevo già che rientravo al primo agosto, purtroppo sono successo di Cassini, siamo rientrati ieri, ma sono contenti, i ragazzi mi hanno accolto molto bene, quindi sono veramente carico per questa nuova avventura.